Ad avanti un altro non ci si annoia mai, questo è poco ma sicuro. Non si annoia il pubblico che guarda le puntate su Canale 5 ma neanche il cast del programma durante le registrazioni. Oggi infatti Luca Laurenti ne ha combinata un'altra delle sue. Di sicuro non si è trattato di una gag preparata e prevista, anzi tutto lascia pensare che sia stata una vera e propria gaff del maestro. Lo fa pensare anche la reazione di Paolo Bonolis. Da qualche stagione Laurenti è seduto accanto a Bonolis nella conduzione del gioco e quindi di fronte ai concorrenti. Anche Luca legge le domande, si alterna con l'amico e collega Bonolis ed è proprio leggendo una domanda che è successo il fattaccio. In gioco c'era la concorrente Eva che è diventata anche la prima campionessa di giornata, e anche grazie a Laurenti. Dopo aver pescato la pariglia ed essere ancora 0 euro col bottino perché non c'erano altri campioni, la concorrente è andata avanti con il gioco. La categoria di domande era, domande stornellate, per cui Bonolis e Laurenti hanno letto i quesiti e le opzioni di risposta come fossero stornelli. Laurenti ci ha preso gusto e ha letto pur la soluzione. Era anche la domanda decisiva tra l'altro, la concorrente Eva aveva indovinato due domande su tre, se avesse sbagliato la quarta avrebbe lasciato il gioco. Invece c'è stata la gaf di Laurenti ad avanti un altro, leggendo la domanda non si è fermato e ha stornellato pur la risposta giusta. La reazione di Bonolis, ha fermato la sua spalla urlando. E se non fosse stato per Paolo probabilmente Laurenti sarebbe andato avanti e avrebbe letto l'intera risposta. Leggerne l'inizio, però, è stato sufficiente. Qui la pioggia di insulti di Bonolis a Laurenti, nu, imbec e cr, no, defi, de, id, ta. Insomma, non se ne è tenuto uno poi e scoppiato a ridere. Anche Laurenti è rimasto prima imbalsamato per qualche secondo e dopo ha cominciato a ridere. «S'ho andato troppo oltre, e mo che famo», ha chiesto Luca. Questa la risposta del conduttore di avanti un altro 2022, Tapigin. E si è fermato. Ovviamente la concorrente ha indovinato la risposta e ha raggiunto la postazione di campionessa di giornata.